Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni con le parole di Walter Rizzetto e di FDL che sono arrivate nelle scorse ore riguardo l'ape sociale. Vediamo che cosa ha detto. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Mentre la riforma delle pensioni tentenna e non si è ancora aperto un tavolo di confronto tra il governo e i sindacati, nelle scorse ore l'esperto di previdenza e deputato di Fratelli d'Italia Walter Rizzetto ha lanciato un appello direttamente al governo Draghi affinché intervenga in fretta sull'esercizio dell'ape sociale. Rizzetto spiega. Per le persone che si trovano in particolari situazioni di difficoltà resta prioritario riconoscere un trattamento previdenziale per uscire dal mondo del lavoro prima di raggiungere l'età anagrafica pensionabile fissata dalla riforma Fornero. È per questo che chiedo la calendarizzazione della mia proposta di legge che rende strutturale l'ape sociale e la estende anche ai lavoratori autonomi che svolgono attività gravose. Ha spiegato in una nota Rizzetto spiegando che non solo è proprio solo con misure alternative che si possono prevedere maggiore flessibilità per l'accesso all'assegno pensionistico possiamo mitigare il duro impatto che ha avuto la Fornero. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti. Grazie per la visione!